Detto, cazzo! Perfetto! Grazie assai, però se mi ridate la mano... Permettete una domanda? Dito! Voi siete cattolico? No, io sono disoccupato. E fate male a non credere, perché quindi il Padre Eterno questa notte ha voluto preparare due grazie. Proprio per voi? Veramente. Quello vede tutto. E il Lennependa ha capito che voi avete bisogno di soldi. E ci ha messo 45 anni, possiamo accorgere. E che soldi, di fronte all'eternità... E facetemi capire, ma questo Padre Eterno, in cambio... Che volesse da me? Niente, è una piccola informazione. Voi quando vendete il caffè, volente o nolente... Voi vi accorgete a chi tiene il portafoglio più gonfio. Vabbè... E voi lo dite a me. E voi volente o nolente glielo sconfiate. No, volente! Ho capito. Oh, ma la grazia dove sta? Oh, il Padre Eterno nella sua infinita misericordia... vi prepara ogni sera per voi una bella vendemela, Lir. E io addivendo ladro per grazia di me. Sentite a me. Dite a questo vostro Padre Eterno che non mi avete trovato.